Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qua con un nuovo episodio di Minecraft della sfida dei Cento Diamonds Ragazzi, mi sono organizzato, diciamo bene Ho fatto l'accampamento qua di mucche e di pecore Perché ce ne sono veramente tanti, ho fatto fare anche i figli Ci sono maiali, pecore, mucche, una cosa bestiale E qua invece ho fatto la farm di grano e di zucche che abbiamo trovato insieme Quindi niente ragazzi, in questo episodio andremo a trovare i nostri primi diamanti Allora, la miniera che avevo anticipato già da prima era questa Ho messo già un po' di torce per non far sponare i mostri E a proposito di far sponare i mostri Nel, diciamo, dove ci sono la casa, diciamo tutto C'è troppo bordello, sponano troppi mostri Quindi ho messo tantissime torce Allora, adesso dobbiamo iniziare a trovare i primi diamanti Allora, qua cosa c'è? Lava Però già... Ok, siamo vivi Allora, adesso io inizierei da qua Che numero? Siamo 36 Allora, il carbone intanto lo prendiamo sempre Così, allora Prendiamo un po' di carbone E iniziamo la nostra scoperta di diamanti Se ce ne sono Vediamo un po' Allora, qua cosa c'è? C'è della luce? Carbone Però il carbone, dai, ne ho preso tantissimo per fare le torce Qua cosa c'è invece? Passiamo per di qua Ah, non l'avevo visto questo Tanto del ferro lo prendiamo che ci serve per farci le armature Per i mob In caso di... Ci dobbiamo fare una casa in miniera, secondo me Però vabbè, per sopravvivere Se no gli animali da dove li prendiamo? Allora Qua a che numero siamo? Dovremmo arrivare già a 12 Ah, però Già è buonissimo Allora, qua c'è della lava Però Dobbiamo Coprire Copriamo così Così la lava fa anche un po' di luce Allora Non ci facciamo Ma che numero siamo? 15 Allora La pietra rossa la prendiamo Anche per l'esperienza Per poi farci la spada Così E iniziere a scavare Allora Perché tanto siamo già A quanto? A 11 Perfetto Qua io direi di iniziare già da qua Allora Vediamo un po' Ma siccome c'era la miniera Più vicina che c'era Passiamo da qua E vediamo un po' Se riusciamo a trovare qualcosa Se riusciamo a trovare qualcosa Ve lo dico subito Quindi ci vediamo là Ragazzi del ferro Ragazzi del ferro Che c'è Ce ne frega Di molto Speriamo di In questa miniera Di trovare più Del ferro Anche gli smeraldi Se troviamo dei villager Magari Ci scambiano Per diamanti Può essere Tutta di fortuna Però Dai Speriamo almeno Di trovare qualcosina Perché Sennò Siamo davvero Sfortunati Non so neanche se bastano I picconi Però dai Ma siamo sicuri Di essere 12 Sì Siamo 12 Quindi Vediamo un po' Se riusciamo a trovare Questi diamanti Ragazzi Stiamo continuando A scavare Scavare Non troviamo niente Saranno almeno Tantissimi metri Che mi sarò fatto Continua a trovare Del ferro Ma me Il ferro Sinceramente Del ferro Non me ne faccio niente Io voglio trovare Qualcosa di buono Qualcosa di utile Non è il ferro Il carbone Perché Non ce la faccio più Sinceramente Primo diamante Primo diamante A parlare Quanti Uno Due No dai Non ci credo Due diamanti Partiamo col bot Allora Due Subito Tre Attenzione Attenzione Tre Quattro 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 Oh controlliamo bene Magari ce ne sono altri Come prima Quattro diamanti ragazzi Siamo già a quattro diamanti Meno male Stavamo scavando Veramente da tanto Da tanto Da tanto E ce l'abbiamo fatta Trovare Trovare già i primi diamanti Sì non ho trovato niente Sì non ho trovato niente Perché se non l'avrei già registrato E Meno male Perché Sto scavando così Allora Il ferro Intanto mi interessa Quanto ferro abbiamo 25 di ferro Mamma mia Non potete capire il bordello Che stiamo facendo Adesso si romperà il piccone E Dai Vediamo se Riusciremo ancora a trovare Qualcos'altro Io voglio trovare Assolutamente la lava Così già mi fa un po' di luce Non ho più voglia di scavare Perché sto scavando Da almeno 5 minuti Abbiamo trovato 4 diamanti Però Non bastano Per fare la sfida Vediamo di trovarne altri Ragazzi Sto continuando A scavare A scavare Da tantissimo tempo Sono almeno Da 26 minuti Credo Non lo so Leggiamo che Da quasi mezz'ora Che sto scavando E niente Non Non trovo più niente Cioè È una cosa assurda Speriamo Di trovare qualcosa Perché se no Qua stiamo qua Ore e ore Non troviamo niente Stare qua Continuare a scavare Da un po' fastidio Ma anche tanti Cioè Magari ci sono subito Non lo so Ragazzi A me sembra più una scemenza Perché guardate Quanti Quanta cobblestone C'ho qua Voi non mi invate Non mi invate Già Sì 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 Alti diamanti Alti diamanti Ma non è possibile Quanti sono 5 6 7 8 A starvi Di più Dai Meno male ragazzi Almeno Almeno ce l'abbiamo fatta Trovarli Non è possibile Non ce la faccio davvero più Sto episodio sta durando Veramente tanto Sarà Ah Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Ce ne sono altri Dai Non fare il furbetto Dammi Dammi qualcosa D'altro La pietra rossa Ma no Ragazzi La pietra rossa Sinceramente Se la devo prendere La prendo solo Per i livelli Però dai Almeno 9 diamanti Ragazzi Ragazzi Meno male Abbiamo trovato Qualcosina Vabbè Niente ragazzi Adesso Io ti dico Di ritornare E Di fare qualcos'altro Ragazzi Sto continuando A scavare D'altri 10 minuti Io direi Di ritornare E Ora che ritorno Ora che ritorno Vi dico che Ci vuole tantissimo Ma tanto 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 Comunque Se riusciamo Adesso ci facciamo Anche Un'armatura In ferro C'è uno Steinball Non mi fa niente Lo sai Non sai Lo sai che non mi fa niente Grazie Ragazzi Dovremmo essere Quasi arrivati Ok Sì Siamo Arrivati In cima Se non sbaglio Sì Ok Ma vedete Ma Ma non so Se c'è uno spawner O un qualcosa Ma Non ce la faccio più Guardate quanti creeper Quanti ranni Cioè io Ho veramente Mi son craftato Un botto di torce Per Per poi cosa Per dare illuminazione Alla casa Ragazzi Dormiamo assolutamente Comunque Siamo saliti su Abbiamo Questi Bei Nove diamanti Che li mettiamo In una Cesta Ne mettiamo Qua dai Nella nostra cesta Contiene Nove Diamanti Ragazzi Adesso Andiamo a fare Qualcosina E vediamo Un po' Sì Allora Intanto Prendiamo Un po' Il grano Che è cresciuto Non voglio Di sfuggare Che cosa è successo No ragazzi Ditemi Che cosa Diamine È successo Avete visto Anche voi Un creeper Mi ha speso Di fianco Ma era Dentro l'acqua Non è Non ho mai visto Una roba del genere Ragazzi Che legale Ma Boh C'è stranissimo Comunque Allora Andiamo Un po' Da mangiare Queste Gomme Allora Abbiamo Il nostro Bel grano Abbiamo tutto Diciamo Vai Vai con Quello Accoppiati Accoppiati Oh 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 Vai dentro Ma guardate La gente salta Pure Che culo Che culo Veramente Sennò Avevo Già Diciamo Che la nostra vita Era già finita Tutto qua Era già finito E Meno male Meno male Allora Intanto Ripiantiamo Un po' E abbiamo Preso Il nostro grano Ragazzi Io direi Che in questo episodio Possiamo Finalmente Concludere qua Abbiamo trovato Nove diamanti E Finalmente Diciamo Che le abbiamo Trovati Perché Stavamo scavando Veramente Da tanto Ragazzi Io sono King E ci vediamo Con un prossimo episodio Bella